Ciao, questa è una tastiera Logitech K480, mi era già piaciuta molto alla sua esposizione ad IFA, adesso l'ho provata una decina di giorni e sono finalmente pronto a dirvi come va. Ok, il Logitech Keyboard 480 costa 55€ sul sito Logitech, è disponibile in versione nera e in versione bianca. 55€ non sono pochi per una tastiera Bluetooth, ma come vedremo ci sono due caratteristiche che la rendono differente da tutte le altre. Prima però voglio farvi vedere quella che è la mia tastiera di tutti i giorni, una vecchia Apple Keyboard di prima generazione, meccanica ovviamente, con connettore ADB che poi ho converto in OCB per usarla sul mio Mac Pro. Questo passaggio, questo aggancio, mi serve per farvi capire che il primo motivo per cui la Keyboard di Logitech è a differenza dalle altre è che non cerca di essere ultra sottile, ultra silenziosa, con dei tasti della corsa bassissima, ma al contrario qua c'è un bel rumore, secondo me è voluto, sono dei tasti che sono alti qualche millimetro, non sono proprio a filo, e c'è uno spessore, una solidità che ricordo proprio quella delle tastiere di una volta. La prima delle sue caratteristiche è proprio questa, lo spessore di 2 cm che è circa portato su tutta la superficie, quindi non c'è l'inclinazione, questo è un po' un difetto perché vi trovate a scrivere con la tastiera piatta in orizzontale rispetto al piano di lavoro, non c'è quella leggera inclinazione verso di voi che di solito rende un po' più comode le tastiere, e soprattutto c'è il peso, da 820 grammi che, abbinato ad un tablet, ad uno smartphone, a quel che è, lo avvicina pericolosamente al chilo, che è un po' il peso di un portatile, di un Chromebook, per farvi capire. Questo peso, unite però le dimensioni, permettono di avere una tastiera molto molto stabile, molto molto comoda per digitare, assolutamente non plasticosa, come la maggior parte delle tastiere per tablet, per portatili, anche della stessa Logitech. La qualità costruttiva di questa K480 mi ha davvero sorpreso, perché non flette anche al centro, è molto molto stabile, non scricchiola, fa qualche rumoraccio, sì, se un po', sentite? Però, insomma, ci può stare per una tastiera che comunque deve stare a casa, non deve essere portata in giro, proprio per concezione. Sul fondo ci sono dei 5 pilini in gomma, questo è lo sportellino che permette di aprire le pile interne, sono due stili normali che, da mia esperienza, con le tastiere Logitech faranno sicuramente mesi di autonomia, e questo è il pulsantino di accensione. Posizionato qua sul fondo è, secondo me, una buona cosa, perché vi impedisce di andarlo a accendere o toccare inadvertitamente mentre la state utilizzando. Un design così goffo permette a Logitech di inserire questo enorme vano per l'inserimento dei tablet, di smartphone, di quel che è. Qua ho un 8 pollici, e vedete come ci sta, qua ho un Kindle Fire HD 6, stranamente proprio dello stesso colore, dello stesso tonalità di giallo, e vedete come stanno bene entrambi, ma posso anche mettere l'8 pollici in questa posizione, o addirittura fare di meglio, andare a prendere il mio 10 pollici, che ho qua, Windows, che poi recensionerò nei prossimi giorni, e vi dirò cos'è, e vedete che sta perfettamente a filo all'interno del suo vano. Il vano è abbastanza spesso, diciamo che esce di un centimetro abbondante, quindi permette di inserire il dispositivo con un buono angolo, insomma, vedete, c'è un buon margine. E qui possiamo passare alla seconda caratteristica, diversa da tutte le altre di questa Logitech K480. Il selettore che vedete qua di lato, 1, 2, 3, regolabile con questa manopola, proprio vecchio stile, sembra un po' quella delle radio di un tempo, permette di selezionare tre dispositivi diversi. Qual è l'idea? L'idea è abbinare tre dispositivi diversi, di qualsiasi tipo di sistema operativo, Windows, Chrome OS, Linux, Android, iOS, qualsiasi tipo di sistema è ben supportato, perché in fondo è una tastiera Bluetooth comune, e poi utilizzare questo selettore per passare da un dispositivo all'altro, con una latenza molto molto bassa. Questo mi permette di fare cose di questo genere, avere il tablet collegato da una parte, magari al punto 1, avere l'altro tablet o lo smartphone collegato al punto 2, e magari al punto 3 utilizzare il mio PC di casa. E io in questo modo posso scrivere su uno, poi passare all'altro, e poi ancora passare all'altro utilizzando una sola tastiera, senza dover fare ulteriori abbinamenti o ulteriori switch a livello software. Tutto gestito da lei e dal software, chiaramente, del dispositivo che andate ad utilizzare. Riassumendo, mi è piaciuta e mi è piaciuta molto. Ve la consiglio se dovete soprattutto gestire più dispositivi, perché chiaramente il suo punto di forza è questo. Tra l'altro lo switch da un dispositivo e l'altro è anche molto veloce, quindi con una latenza molto assolutamente tollerabile, secondo me, quindi questa è un'altra buona notizia. Mi è piaciuto questo suo, non voler essere ultra sottile, ultra fighetta, ma al contrario dare un approccio molto più strong alla scrittura, alla pressione che è necessaria per utilizzarla. Forse mi piace di più la versione bianca, che è disponibile in Italia, ma attenzione perché forse non è ufficialmente importata, quindi i modelli che trovate in Veneta sono di importazione, hanno un layout differente, insomma, prestatici attenzione prima di valutarli nell'acquisto. Per il resto trovate maggiori informazioni, ho scritto cose più tecniche, ho fatto alcune foto che vi mostrano proprio quella che è la sua caratteristica principale, l'altezza dei tasti e la robustezza, nella recensione che è online da oggi su hdvlog.it. Grazie a tutti!